Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi continuiamo la Carly Legacy. Allora, ci troviamo nel pomeriggio di mercoledì e appunto durante la giornata ho fatto un po' le solite cose faccende e Lily si sta dedicando un po' più al benessere. Tra l'altro come livello siamo vedete a metà del livello quasi 10 praticamente e vorrei appunto continuare con questa storia delle abilità e della loro generazione. Per quanto riguarda Jasper invece stava facendo un banchetto, a quanto pare sono solamente rane perché abbiamo rane ragazzi in quantità veramente esagerata, mentre Oliver stava facendo jogging in giro per lo scenario insieme a Chloe. Visto che appunto doveva mettersi un po' addietro con la forma fisica direi che ci siamo insomma. Chloe è anziana però stanno facendo una corsettina abbastanza corta a quanto pare e basta. Questo è quanto. Allora, oggi in questo episodio vorrei vedere insieme a voi questo mega albero rosa che appunto abbiamo fatto nascere insieme ai fagioli magici, l'abbiamo innaffiato e adesso è pronto per essere esplorato. Quindi domani perché adesso è già tardi, insomma gli faccio fare altre cose, domani, mamma mia, andremo a vedere e scoprire l'interno di questo mega albero. Ok, qua continuiamo a riempire il tavolo, continuiamo a vendere, quindi abbiamo un inventario ragazzi che fa paura, però va bene. Ok, Oliver è tornato, direi che puoi sguinzagliare, basta, basta. Vai a fare jogging, basta, sguinzaglia e ti vai a fare magari un bel bagno caldo. Beh, caldo no, perché in realtà c'è abbastanza caldino. Magari potremmo farci delle immersioni. Rilassamento muscolare, ecco che ci sta. Ok, allora tu basta magari, vai a fare, gli ho detto di fare un po' il bucato qui alla tinozza perché non so come ma si è ripristinata, insomma si è sbaggata, diciamo così, la cesta. Però tu devi venire qua, non devi mangiare, per favore. Anche se ormai è terminata, vabbè, dai, facciamo così. Ti lascio mangiare a questo punto, visto che avevi fame. Mangia pure, mangia pure il persico trotta. E con lui, mi sa che avevo iniziato, ecco, abbiamo, sì, abbiamo trovato altre rane perché appunto mi serviva l'ultima rana che è quella, la rana, una rana maculata che non mi ricordo mai qual è, perché le rane infatti non le abbiamo completate ma è sempre l'ultima, ragazzi, che ci manca e quindi, sì, insomma, se io le passo a Lily direi che sono doppie, immagino. Anche lei si è messa a mangiare qualcosa? Che cosa? Ti prego. Prepara dei ciurros. Non credo siano molto salutari i ciurros, quindi magari prenditi qualcos'altro. Ma Jasper è andato a letto, poverino. Vieni qua, butta il cibo avariato. Lui si sta facendo il suo rilassamento muscolare. Sì, ti prego, basta. Vediamo un attimo cosa c'è in frigo, perché secondo me c'è qualcosa di salutare anche per te, a meno che non sia stato terminato. Oh, non c'è niente da mangiare. Eh, lo so anch'io allora che mi devi preparare da mangiare, ma allora preparati qualcosa. Cucina un pasto salutare e facciamo, non credo che i ciurros, infatti, facciamo degli spaghetti ai ceci, facciamo formato famiglia, dai. E basta. E poi devono ancora ridiscutere delle paure, eccetera, eccetera, ma come al solito abbiamo questo problema della paura che purtroppo non se ne va più via. Ah, sì, scusa, questo guarda. Facciamo così. Sì, dov'è che vai? Vieni, vieni, che c'è posto? Vieni qua. Dai, riprendi gli spaghetti. E lui, no, che vai a dormire? Fammi il bucato. Perfetto. Lui sta benissimo, ragazzi, anche lui deve mangiare, ma lui va bene. Anche un formaggio? Prenditi degli avanzi. Sì, infatti, una fetta di formaggio va più che bene. Perfetto. E lui si sente al settimo cielo. Allora, ragazzi, io intanto nei periodi un po' morti farò gli incroci con le rane, cercherò di andare avanti con queste cavolo di rane, ma è una faccenda abbastanza lunga. Ma non parlare, continua a mangiare. Vieni qua, tu, siediti. Perfetto. E magari manda un messaggio a Emily. invia un sms. Che tra poco, ragazzi, ci trasferiamo. Eh sì, 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 è arrivato il momento anche per lui di iniziare la sua nuova vita, no? E quindi è così. Allora, proviamo a fare la rana. Vedete che l'abbiamo tutte doppie. Allora, iniziamo con la rana melanzana. Rana melanzana. Rana melanzana classica. La facciamo accoppiare. Allora, secondo me l'ipnorana non è quella giusta. Ma proviamo la centro del bersaglio. Oh mio Dio! Così è il primo colpo! No, vabbè, non ci credo. Rana vortice della melanzana. Abbiamo completato! Finalmente! Finalmente abbiamo completato la collezione delle rane, ragazzi. Madonna, non ci speravo più. Oh, finalmente l'ultima che mi mancava. Non so perché, mi era passata un po' di mente. Benissimo, ragazzi, sono troppo contenta. Devo fare assolutamente una foto perché sono troppo felice. Fatta la foto, perfetto. Ora dobbiamo aspettare la targhetta, in teoria. Sì, Lili ha fatto rilasciare una nuova rana. Oh, alleluia. Così adesso tutte le altre possiamo metterle in vendita e magari esporle. Non lo so, ce le terremo nell'inventario. Io che avevo fatto tutto il mio inventario ordinato. Vabbè, niente. Le lasciamo così, ovviamente. E per il resto aspettiamo che arrivi la targhetta. Sono troppo felice, ragazzi. Ormai non ci speravo veramente più. Ok, tu hai terminato, quindi metti pure in frigo. Tu stai lavando, perfetto. Con lei dovrai preparare un capolavoro. Ah, sì, abbiamo gli animali che sono avanti con l'età. Direi che ti cambi gli abiti e ti metti gli abiti da lavoro. Questo per le composizioni floreali. E ti vai a creare l'ennesima composizione floreale, che anche qui stiamo verso la fine. Abbiamo Uccelli del Paradiso, che è bellissimo. Dopo Uccelli del Paradiso abbiamo Orchidee Gialle. Mi piacciono le orchidee. Adoro. E poi abbiamo ancora queste, Uccelli del Paradiso, Orchidee Rosa, Permafrost Viola, che comunque sono tutti capolavori. È impeccabile, sì. Anche questo Uccelli del Paradiso, infatti, ci ho messo la campana, non ha il profumo perché mi piace troppo. E questo magari possiamo lasciarlo anche qui, mentre questi li diamo magari a Jasper da poi vendere nel mercatino. Lui sta ancora lavando, sì, lo lasciamo lavare. Mentre lui, lui sta benone, ragazzi. Magari, ecco, dammi giusto una pulita. Pulisci. La pianta mocca ha fame, quindi le diamo pure da mangiare, nutri. E forse c'è da fare un raccolto. Al prossimo giro lo faccio raccogliere a lui, perché poi a casa ci serviranno, nella nuova casa, ci serviranno delle piante particolari per poi, insomma, vi spiegherò più avanti. Allora, intanto vedo che qui abbiamo due uova da cova. Lui non avrà le uova, quindi le lasciamo tranquillamente a Jasper. Mentre per quanto riguarda il resto, io gli farei fare, magari, visto che fuori si sta anche bene, un lavoro a maglia. Secondo me deve riprendere qualcosa. No. Allora andiamo avanti con delle calze. Lavoro a maglia, abbigliamento, lavorato a maglia, lavora le calze. E andiamo avanti con... Secondo me queste ne abbiamo già fatte. Questi idem. Mi sa che mancano questi. Sì, tra l'altro lui, vedete, ogni tanto al mercato gli faccio comprare le lane, quelle colorate, ma un domani avremo il nostro lama. Perché qui con loro ho guardato la mucca. Ho visto la mucca insieme a loro, mentre con Oliver vedrò il lama. Però appunto la lana, eccetera, eccetera. Allora, dopo che hai finito, guarda, ti faccio andare in bagno. Vai pure e vai a dormire. Secondo me tu domani lavori, infatti. E questo magari a stendere magari lo farò fare a uno dei due. ecco. Vediamo se riusciamo a creare un capolavoro di composizione floreale. E poi basta. Mamma mia ragazzi, che bello. Ormai non ci speravo più. Ok, abbiamo fatto anche il nostro capolavoro. Vediamo. Oh, mi piace anche. Aggiungiamo il vaso. Gli mettiamo un vaso autunnale. Bello, bellissimo. Allora direi che puoi andare in bagno, poi qua ci penso io. E poi anche lei, penso che le faccio fare l'ultima seduta. Guarda, fai proprio una sessione di centratura energetica. E poi ti manda a letto. Mentre con lui stiamo qui fuori, perché appunto si sta ancora bene. Guardate come adora il lavoro a maglia. Si sta piuttosto bene, quindi direi che possiamo stare qui. Ecco. Ah, gli ho cambiato l'aspirazione perché aveva con l'altro, con l'amico degli animali, dovevamo avere più animali e stringere amicizia con più animali. Quindi dobbiamo aspettare l'arrivo di nuovi animali. Mentre qui, invece, anche qua, devo aspettare la sede ad ondolo. Però potevo iniziare tre progetti con lo stato emotivo ispirato. Oggi siamo energici, ma così almeno andiamo avanti anche con questa aspirazione. Lily, sì, fatti pure la tua... Oh, Savanna quest'ora! Che ci fai qui? Ok, Lily si fa la sua sessione. Poi direi che ti fai un doccia veloce e ti viene a letto. Mentre Oliver, quando avrà finito il suo progetto, prendi, sposta il bucato e lo appendiamo al filo stendibiancheria. Guardatelo proprio com'è felice. Come lo sono anche i ragazzi del resto dopo questa cosa delle rane, finalmente. Adesso posso rimuovere tutto dai preferiti. Ah, è stata un'impresa, veramente. Averlo saputo prima, magari, dov'è che ho sbagliato. Quindi, con le rane siamo a posto. Adesso non ci resta che finire quella del giardinaggio. Ok, è terminato, ottimo. Finire quella del giardinaggio, in realtà, oi oi! E poi ci sarebbero anche gli insetti. Infatti, vedremo cosa ci darà questo albero particolare e andremo in campeggio. Quando loro saranno trasferiti, così almeno vado avanti solo loro due, non mi porto dietro Oliver, andremo appunto in campeggio. Allora, tu qui praticamente avrai anche tu un inventario che farà, mamma mia, non schifo, però sarà bello importante. Vieni pure a letto e dormi. Con Lily, ragazzi, niente. Aspettiamo che lei finisca e poi, insomma, vado avanti. Io ci possiamo vedere poi l'indomani mattina, ecco. Ed eccoci, quindi, ragazzi, in mattina siamo qui fuori con Oliver, che ha scoperto che gli piace il giardinaggio. Gradisce il giardinaggio? Beh, direi di sì, visto che comunque lui aiuta, no, nel giardino dei suoi. Poi avrà anche un suo giardino un po' più piccolo, però ce l'avrà. E quindi, appunto, stava prendendosi cura lui del giardino perché sa che i suoi, insomma, si sono dedicati al giardino per tanti anni e quindi anche lui deve dare una mano. Quindi sta raccogliendo tutto perché, come vi dicevo, ci servirà in futuro tutto questo raccolto. Intanto, a livello 2, fantastico. Perfetto. Jasper è al lavoro, Lily tra poco si sveglia e le farò preparare degli omelette salutari perché, appunto, Oliver ha fame solo per quello. Poi direi che possiamo vedere questa cosa nuova dell'albero magico. Ti fai una doccia. Sì, con lui non so perché devo andare in bicicletta. Va bene, colloca la scenaria, ma va bene. Poi magari ce la riprendiamo. Dove vai con la bicicletta? Cioè, per fare due metri ti devi prendere la bicicletta. Va bene, ho capito. Dove vai? Oh, signore, cosa vuoi fare? Chiacchiere con un sim per cui è una cotta? Ma certo. Vai, 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 raccogli tutto. Devi raccogliermi tutto. Guarda, anche i fiori. Poi al massimo ce li vendiamo, però fai un raccogli tutto. Dai, dai, aiuta in giardino a tua mamma. E anche qui tu non puoi, vero, estirpare, però puoi spruzzare l'insetticida. Così almeno aumentiamo l'abilità del nostro giardinaggio. Se la mamma si svegliasse, avremmo fame. Grazie, mammina cara. Prossima avventura. Oh, wow. Non so se Chloe ha fame. Sì, c'è da riempire anche questa ciotolona. Eh sì. Sì, 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 ok. Così prepara, appunto, questa colazione salutare. Niente, con la bicicletta, ragazzi. Mamma mia, sono inseparabili. Ok. E poi, quando hai fatto, magari vieni anche qui a scattare la foto. Guardate, 3000, 3000 simoleon. Questa è bella, magari ce la profumiamo anche. Che, caso mai, volevo aspettare. Vabbè, niente, profumiamo. È bellina anche questa. E quindi direi di tenerla. Perfetto. Dai mamma, che ho fame. Sta preparando, appunto, gli albumi. Omelette di albumi. Più salutare di così, ragazzi. Va benissimo. Vediamo se anche Jasper... Eh sì. Così, quando torna a casa, c'è già la colazione anche per lui. Perfetto. Così, vediamo le sue abilità. Ok, anche la pesca era quasi per essere aumentata. Poi cosa abbiamo? Eh, vedete, la pesca, il giardinaggio. Sì, per il resto mi interessavano soprattutto giardinaggio, lavoro a maglia e addestramento di animali. E poi, veterinaria. Perché, appunto, quando avremo la nostra clinica dovremo allenarci con le pozioni, no? Quelle cose lì della chimica, varie cose. Cosa vuoi, Chloe? Abbracciala. Sì, va bene, dopo ti abbracciamo. Allora, tu hai preparato la colazione, quindi vieni qui, prenditi una porzione. E anche Jasper, quando se ne torna a casa, prendi una porzione. Guarda, poi ti faccio fare anche un banchetto, visto che si sta bene fuori. Te lo faccio fare. Guarda, cambiati di abito. C'è caldo? Però non volevo che mettessi quelli. Perché sì, in effetti. Ma mettiti qui, dai, che hai la maglietta floreale. E poi iniziamo, occupati del tavolo. Perfetto. Mentre lui sta raccogliendo tutto. Ha una fame tremenda, ma adesso ce ne andiamo. Magari dai, non innaffiare, basta così. Innaffi magari anche dopo e stirpi le erbacce. Lo facevo solamente per aumentare anche un po' l'abilità. Perfetto, dopo che fertilizzato, guarda, 1560 per aver fertilizzato una pianta. Allora, direi che... Uh, guarda, aspetta, diamo un attimo da mangiare alla pianta mucca. E direi che ci siamo. Quindi ci mettiamo con i nostri abiti, in realtà, estivi. Possiamo metterci anche questi, dai. Sono tutti flirtanti, ragazzi. Ma cos'è, gli albumi? Gli omeletta gli albumi, non ho capito. Dai, vai alla fuori e inizia poi la vendita. Perfetto, si è cambiato. Oh, perfetto, con questi abiti che sono meravigliosi. Tu guarda, mangiati giusto i lamponi. Mangia lampone e una mora. Tanto adesso ce ne andiamo qui davanti. Vai qui, che facciamo una bella foto anche. Va bene, per il momento, dove vai? Stai ferma qui, vai qui. Subito a pulire sti piatti. Ok, quindi abbiamo subito da fare la nostra foto all'albero misterioso. Questo albero gigante, viola. Dalle fattezze un po' strane. Ok. Però direi che è arrivato il momento. Anzi, guarda, scusa, ti faccio una foto così. Sì, perché volevo prendere proprio solo l'albero. Anche se ci sei te, va bene uguale. Perfetto. Gli altri li lasciamo nelle loro faccende. A questo punto direi di esplora l'albero mistico del portale dei fagioli magici. Vediamo dove ci porta. E soprattutto, ragazzi, io sto aspettando con ansia questa starghetta delle rane. Ci abbiamo messo così tanto, mamma mia. Vediamo, guardate che si illuminano. Guardate, si illuminano i fagioli. Dopo che noi abbiamo innaffiato il tronco, c'era il ceppo. Sì, si illuminano. Si vede che hanno notato la presenza di Lily al suo interno. Ok, qua stiamo vendendo intanto. Perfetto. Jasper, continua a riempire il tavolo e occuparti soprattutto del tavolo. Ecco, appunto. Riempi il tavolo. Mentre tu occupati. Esatto, bravissimo. C'è anche da pulire il capanno, burrita, eccetera, eccetera. Ti prego, una vendita decente. Ah, ok, qua ci impiega un po' in realtà. Oh, guardate. Sprigiona un po' di polline. Wow. Perché io non mi ricordo come funzionava questa sfida. Ricordo di averla fatta, anni fa ormai l'avevano introdotta questa sfida dei fagioli magici. Però non ricordo di preciso come accadeva. Mi ricordavo di questo albero enorme del ceppo e dei fagioli. Ma non in realtà cosa succedeva dopo. Quindi è una riscoperta anche per me. Perfetto. Oliver, grazie. Sei la mia salvezza quest'oggi. E direi che a questo punto pulisci burrita. E sì, è un po' basta la felicità. Bisogna... Oh, perché non mi dà le interazioni? Grazie. Socializza magari dalle... Ah, non possiamo darle... Niente. Il dolcetto amichevole. Forse perché non ce l'abbiamo. No che ce l'abbiamo. Ah no, è piccante. Niente. Lamentati. E poi la mungi. Perfetto. Ci stanno chiamando dall'entroterra. No, no, ma noi siamo occupati qui con il nostro alberone. Ecco, io lo sapevo. Guardalo lì. Vieni qua, occupati del tavolo e riempi il tavolo assolutamente. Che sennò cosa vendiamo? Uuuuh. È anche lei in quel periodo. Che bello. Adoro. Solo che è anziana, quindi non credo. Faremo. Oh, finalmente. Dimmi che è arrivata la targhetta, ti prego. E occupati del tavolo. Perfetto. Oh, andiamo a vedere. Lili varca il portale. Oh, guarda, che bella. Lili varca il portale aspettandosi di essere avvolta dalle tenebre, ma si ritrova invece in un bel pascolo soleggiato, eh più o meno ci siamo, e punteggiato di fiori di ogni genere. Un albero luminoso e carico di frutti si staglia a distanza su un lato. Lili coglie un frutto dell'albero, il paesaggio soleggiato si scioglie all'istante nell'oscurità. Prima di riuscire a rendersene conto, si ritrova fuori dal portale dell'albero con qualcosa in tasca. e questo qualcosa in tasca, ragazzi, è questo. Il frutto proibito del vegecim mangia e diventa come i vegecim, pianta e fai crescere un albero tutto tuo, è detto proibito, ma solo per fare scena. Allora, io non so cosa si pianta, secondo me cresce questo, però si può anche mangiare. Se noi lo mangiamo, adesso vedrete cosa succede. Allora, in realtà voglio andare a vedere... Uh, questo? Prossima avventura, ok, le piazzono... Dono di madre natura. Ah, sì, perché ha mangiato giustamente. Ma io direi di andare a recuperare la posta innanzitutto. e tu continua a riempire il tavolo, perfetto, e occuparti della vendita. Poi, quando hai fatto, vieni qui che sono da raccogliere i panni e magari spegniamo il forno. Il forno, il camino! Perfetto, mentre tu si pulisci burrita, perfetto. Qua c'è la cacca di Chloe, che la prendiamo subito. E sì, tu avevi bisogno di socializzare. Socializza con burrita, ti prego, abbracciala. Vediamo, vediamo cosa abbiamo trovato. Eccola qui! Finalmente, vediamo dove possiamo sistemarla. Beh, io direi che la sistemeremo qua. Purtroppo la collezione anche dei pesci, ragazzi, è andata non bene. Cioè, non come speravo, in realtà. E vabbè, pazienza. No, però qui nella stanza delle collezioni non si vede. Voglio che si veda questa targa, che abbiamo sudato per ottenerla. Quindi magari possiamo metterla qua. Beh, qua di fianco, dai. Qua di fianco e le rane poi magari le metto via. Perché all'inventario, ragazzi, fa schifo. E basta. Sì, perfetto. Quindi, Lili, adesso fai quello che ti pare. Anzi, fino a un certo punto. Perché adesso dobbiamo mangiare questo frutto particolare. Lui, va bene, aspettiamo di fare un'altra vendita. Salve, anziano. Senza nome. Va bene, guarda. Dopodiché vieni qua, fai usa e ti fai un bel pisolino. Sì. Ti fai un bel pisolino. Mentre Lili mi sta riponendo i panni dove? Così, a caso. Perfetto. Tu, invece, stai benone. Stai benissimo. Grazie che mi hai ripulito tutto. Ma veramente tutto. Abbiamo preso anche le uova che sono da cova. Le diamo a Jasper. E qua abbiamo invece cinque uova normali. Possiamo anche tenercele. Tanto scadono. No, non lo so. Niente, aspettiamo. Così come il latte. Lo mettiamo via. Perfetto. Magari vieni qui. Chiamati Chloe. Ecco, chiama da te Chloe qua. Chiama da te Chloe. Ti cambi perché hai fatto tutto il tuo dovere. E ci mettiamo gli abiti questi. Da caldo. Mentre tu, Lili, no, aspetta. Vai pure fuori, dai. Vieni anche tu qui. Vieni qui. Che veniamo a mangiare il... Frutto. Questo frutto particolare. Quindi scusate, se io vado a vedere la collezione... Vabbè, le rane basta, grazie. Del giardinaggio. Ci manca questo che è quello UFO. Solo che non riesco a trovarlo. Poi ci manca quello zannuto. Questo che avviene dal granite. Questo, ragazzi, non riesco a trovarlo. Questo, però, è del regno magico. E questo è del frutto bizzarro. Casomai faccio un salto a prenderlo direttamente nello scenario. Allora, tu potresti sederti e mangiarlo? Che dici? Sta arrivando Chloe. No, no, no. Chiamati Chloe. Allora, aspetta perché volevo esserci anch'io, eh, mentre lo mangi. Va bene, se vuoi sederti con tua mamma... Ah, no, eccola qua. Vieni, vieni qua. E fai un continuo addestramento. Fingiti morta. Perfetto. Mentre tu ti mangi questo frutto. E vediamo, ragazzi, cosa succede. Ok. Foto per ricordarci questo momento magico. Che frutto strano. Che sapore particolare. Oddio, dove vai? Dove vai? Perché lievita? Sta lievitando e non è una sessione di benessere. Wow! Ecco fatto! Ecco cosa succede. Oddio! Ecco cosa succede quando mangiate il frutto proibito. Esattamente questo. È germogliato un vege sim. Lily ha mangiato il frutto proibito. Va bene, non ti allarmare. Andrà tutto liscio. Cerca solo di comportarti con naturalezza. Giusto per capirci. Con la naturalezza di una pianta. Lily crescerà rigogliosa bevendo tanta acqua e stando al sole. E grazie alla fotosintesi placcherà la propria fame. Ricorda che come vege sim Lily non avrà bisogno di mangiare cibo comune. Ciò significa, tra l'altro, che non avrà neanche bisogno di andare in bagno. Quindi ragazzi vedete qui abbiamo l'acqua al posto della viscica e come fame dovremo mangiare poco ma si nutrirà del sole. Quindi queste giornate di sole sono l'ideale. Se puoi andiamo a vedere anche qui, va abbastanza bene. Eccolo qua. Fotosintesi per essere esposta alla luce solare. Lily è esposta al sole e sta convertendo acqua e luce in cibo. Guarda come placca la sua fame. E quindi ragazzi avremo il, diciamo, la fame placata così come anche l'acqua perché dovrà nutrirsi di acqua. Mamma, ma che ti è successo? Ma sei tu? Perché sei diventata tutta verde? Quindi scherza magari sulla peluria che come per lei potrebbero essere le foglie, i fiori che potrebbero crescerle. Esprime pure ammirazione e entusiasmati anche per il giardinaggio. Ok, quindi ho visto anche che qui abbiamo qualcosa. Visualizza le pietre migliari. Oh, trasformazioni invece sim! Lily ha conosciuto il lato botanico della vita. Adoro. Adoro troppo. Allora, intanto che finisci qui, magari vieni qua, ti faccio fare un'altra composizione floreale. Crea una composizione. Allora, avremo adesso le orchidee bianche. Ragazzi ne mancano quattro. E poi abbiamo terminato anche la collezione delle composizioni floreali. Mentre Oliver sta qui fuori. Jasper! Ma dai! Mamma mia! Perché era qui impalato? Cioè, quando gli dici di fare le cose si impalano. Quando invece non gli dici le cose, vagano per i fatti loro. Allora, vediamo se c'è da buttare del cibo avariato. No? Magari, ok, dopo ti fai giusto una doccetta. Questo però è da mettere via. Riponi. Riponi, riponi. Qua c'è da cambiare l'acqua. Sostituisci l'acqua. Io direi che puoi startene anche fuori. Magari se mi fai tipo la doccia ispirata, riflessiva dovrebbe essere, riusciamo così a fare, iniziare un progetto ispirato. Quindi facciamo questo e siamo a posto. Cioè, siamo sulla nostra strada, sulla nostra via. Oh, perché? Ah, senza braccialetto dell'amicizia. Vabbè, fa lo stesso. Guarda, dopo quando hai terminato, spruzza l'insetticida e mi stirpi anche. Adesso non ricordo effettivamente quanto dura questo tempo, cioè questa trasformazione. Quindi lo scopriremo. Penso cinque giorni, sì, infatti. Quindi avremo tempo di andare in campeggio, starcene al sole tutto il tempo che vogliamo. E l'ho fatto apposta anche per quello. Quindi sì, perfetto, raga. Cioè, non mi aspettavo altro. Perfetto. E dopo che hai fatto la doccia riflessiva, in teoria dovresti diventare, come si dice, ispirato? Se non erro. Qua invece siamo già a 24 giorni di età e domani è arrivato il momento di trasferirci. Niente, rimane troppo flortante. Io non so perché. Ah, perché è un'invista di un idillio di domani. Vabbè, poco importa. Noi iniziamo comunque un nuovo progetto. Lavoriamo le calze e andiamo avanti con queste. Poi se ne creo doppie, al massimo le metto su plopsi perché dobbiamo iniziare con plopsi. Quindi se iniziamo magari con le calze noi andiamo avanti. Perfetto. Questi ovviamente fertilizzante e fertilizzante vitalità, super vitalità, mi interesseranno poco. perché non avremo i prodotti agricoli abnormi, ma fa lo stesso e basta. Oh, che carino. Sì, dai, facciamo... Oh, ci stanno chiamando Emily. Erika! Erika! Stavo pensando di entrare, ma non credo, nonna, scusa. Non accettiamo fantasmi. Allora, dai, vieni qua, scattiamo la foto. Questo poi lo vendo invece. Questo potremmo regalarlo. Questi due potremmo regalarli. Facciamo finta che li abbiamo regalati a Oliver. Volevo fare una roba. Vai qui. Che secondo me posso fare con lei. Perché appunto è verde. Sembra un po' tipo Gamora. Guarda come si diverte. Crogiolati ai raggi di luce. Senti la mia pelle. Ah, diventa energica. Ah, ma diventa energica. Oh mio Dio. Cosa mi sta nascendo? Cosa sta succedendo alle mie braccia? Ah, sono tutta verde. Sì, è una piccola Gamora, tipo. Adoro. È che si tagliano i capelli. Quindi hai i capelli corti, però adoro perché c'è il cappello. Ah, beh, allora niente. E questo l'ho dato dal sole. Sai cosa vai a fare? Vai a camminare nella natura. Vai. Tu vai a camminare. Lui sta riposando. Anzi, fatti un altro riposino, va. Fatti un altro pisolino. Mentre lui sta facendo il lavoro a maglia. Vedete, abbiamo iniziato con il lavoro a maglia. Terminiamo l'episodio con il lavoro a maglia. Quindi ragazzi, spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Finalmente ragazzi, mi hanno venito le rane. Una cosa in meno. Adesso avrò da fare le termiti, cioè gli insetti. E il giardinaggio, se riesco il giardinaggio. E basta. Quindi spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Se così fatemelo sapere con un like e giù nei commenti. Direi che noi ci possiamo vedere al prossimo video. Ciao!